Per Salvatore Elia adesso c'è anche la certezza. Il giocatore rosa nero dovrà operarsi in quanto sono stati confermati i sospetti emersi alla fine della partita di domenica contro il Cittadella. L'esterno del Palermo ha subito una lesione del legamento collaterale del ginocchio destro e per questo dovrà essere sottoposto ad intervento. Elia sarà dunque costretto a star fuori per quel che rimane del 2022. Almeno due mesi serviranno per recuperare e poi bisognerà attendere la risposta del giocatore alla fase riabilitativa. L'operazione si svolgerà di comune accordo con l'Atalanta che è proprietaria del cartellino. Notizia negativa in un momento particolarmente delicato per la squadra di Corini che dopo i due pareggi Casalinghi con Pisa e Cittadella si prepara per la difficile trasferta di Modena in programma domani pomeriggio. Il tecnico ha lavorato in settimana anche sui cambi di modulo così come visto nelle ultime sfide ufficiali. Il posto di Elia che starà fuori come l'altro infortunato Sala verrà quasi certamente occupato da Valente, suo sostituto naturale. In avanti con Brunori al centro dovrebbe essere riproposto Di Mariano, dubbi a centrocampo dove Corini pensa al reinserimento di Stulaz. Fra Modena e Palermo al Braia il fischio d'inizio è programmato per domani alle ore 14.